I danni ci sono stati ovviamente non solo a noi ma anche a tutti, i computer, la contabilità che comunque si rifà, mobili antichi. Quindi lavoriamo adesso grazie anche agli aiuti di alcuni amici che sono intervenuti e ci hanno aiutato a sgombrare tutta l'acqua che veramente era circa 40 centimetri di altezza. L'unica cosa che si può soltanto lamentare è il fatto che magari forse una sola macchina o comunque un solo gruppo è sufficiente per un territorio così vasto, solo quello. La quantità di pioggia caduta in un arco temporale molto limitato è stata davvero notevole, questo ha determinato un allagamento lungo la via Cristoforo Colombo e la via Andrea Doria con l'invasione dei pianiterre, di qualche scantinato, certo per fortuna non danni particolarmente gravi ma dei disagi inevitabili. Diciamo che poi l'acqua è defluita regolarmente, normalmente stiamo provvedendo con qualche pompa idrovora a svuotare gli scantinati allagati e che vogliamo fare? Chiariamo. La pulizia dei tombini era stata fatta regolarmente quando è giusto che si faccia all'inizio della stagione invernale. Non c'erano, dopo le verifiche, situazioni di allarme o di pericolo, tant'è vero che immediatamente appena ha smesso di piovere l'acqua è defluita normalmente, regolarmente, naturalmente senza bisogno di alcun ausilio. Sulle previsioni no, non era prevista questa bomba d'acqua, erano previsti dei piovaschi sparsi, non c'era nessun allerto della protezione civile. Penso che possiamo ascrivere il fenomeno alle fortuite circostanze, alle cose che purtroppo succedono e che per fortuna non hanno causato particolari danni. Adesso è in programma anche un sopralluogo nelle zone colpite da incendio dove adesso si dovrà fare un po' i conti con il dissesto. La preoccupazione maggiore è per quelle aree perché il rischio dissesto, il rischio frane è elevato. Adesso stiamo andando lì, per fortuna ci segnalano soltanto la caduta di qualche pietra lungo la strada provinciale, nulla di preoccupante, però voglio rendermene conto di persona e soprattutto voglio sollecitare le istituzioni preposte affinché gli interventi promessi si traducano in realizzazioni concrete nel più breve tempo possibile.